Qualche istante partiamo su tutti i nostri canali. Eccoci, eccoci, buongiorno, bentrovati ancora una volta, cari amici, benvenuti al nostro consueto appuntamento dedicato all'arte moderna e contemporanea. Devo dire, oggi più di sempre un percorso straordinario, un percorso vincente, un percorso meraviglioso che ci vede protagonisti. Loris, benvenuto, accanto ai grandi giganti, accanto ai grandi scultori, scultori e artisti della storia del nostro tempo e con Claude, buongiorno, in diretta ricorosamente dagli studi del Principato di Monaco, sulla box Monaco Telecom, il numero 262, sul nostro canale Sky 862 e per gli amici ovviamente che ci seguono in streaming o dal telefono o sul nostro canale Facebook, sulla nostra pagina Facebook o sul canale YouTube e su quale poi potrete anche rivedere i nostri appuntamenti. Come a nostra abitudine andremo a leggere, a valutare e considerare quest'oggi un grande viaggio, un grande percorso, ma soprattutto Roberto, come stai Roberto? Un grandissimo ospite in studio, un grandissimo scultore nell'ambito della cultura contemporanea, che ci consentirà di fare un grande viaggio, un lungo viaggio nella memoria, nella storia dell'umanità, nella profondità del suo linguaggio e soprattutto in quella dimensione shakespeariana che rappresenta, che è stato ed è capace di farci vivere quotidianamente. 800-792-252 è il numero verde, 800-790-252 è il vostro numero verde per gli amici che ci chiamano dall'Italia, oppure se volete chiamateci al nostro numero Whatsapp, scrivete la nostra mail a vostra disposizione, è info.teos.tv Evans come stai? E soprattutto con le grandi sculture di Giuseppe D'Angelo oggi sogneremo insieme, perché è davvero un privilegio enorme potervi e potere raccontare, potere vivere questo viaggio, potere toccare con mano questo grande percorso, un percorso che ha origini antichissime, è un percorso che ha origini straordinarie proprio perché si rivolge e parte dalla materia, dalle pietre preziose, dal marmo, dalla tormalina, dall'alabastro, dalla terra e dalla terra il grande D'Angelo è stato capace di estrapolare il senso della vita, così come accadeva per i grandi di un tempo che dal blocco di marmo, pensate alla pietà di Michelangelo, estrapolavano il soggetto, il contenuto, poiché già tutto era dentro, così oggi nella sua modernità il grande D'Angelo è capace di scolpire, creare, ma più che scolpire, creare, distruggere in mille pezzi e ricomporre, fare rinascere, fare rinascere attraverso questo puzzle, questo collage, questo riassemblare i suoi volti, la sua simbologia, il legame con l'uomo, il legame abbiamo detto shakesperiano, con questa condizione quasi ammelletica del to be or not to be, che il nostro grande D'Angelo è capace di sottolineare, di farci vivere quotidianamente. Cominciate a chiamare, cominciate a domandare, cari amici, perché sarà un appuntamento, un grande percorso che vivremo insieme quest'oggi e che il nostro ospite ci farà comprendere, ci farà capire ancora meglio. Andremo a leggere, devo dire, una collezione di sculture inedite straordinarie, una collezione di sculture inedite straordinarie, poiché grazie a questo speciale, a questa ricca e preziosa collezione, Giuseppe ci porta in altri mondi, in altri luoghi e soprattutto ci fa toccare con mano la profondità del suo linguaggio. Caramissi, qui oggi devo dire che passano i più grandi artisti e soprattutto i più grandi sculturi del mondo, abbiamo visto il grande Tassic, il grande Parra, il grande Meneghetti con le mostre che ovviamente li sostengono nei luoghi più raffinati e più preziosi. Certamente poter parlare di D'Angelo oggi significa riuscire a superare quel limite che il commercio ci fa vivere quotidianamente e significa entrare in quella dimensione più altamente spirituale che l'arte deve possedere, quella dimensione che a pochi eletti è stata data la capacità di esprimere, sottolineare e valorizzare attraverso il loro lavoro. Uno di questi è proprio lui e grazie a questi immensi capolavori, grazie alla forza di questi linguaggi, la forza di questi grandi linguaggi, oggi viviamo insieme, oggi valutiamo insieme qualcosa di straordinario e ce lo dice proprio questa enorme collezione, devo dire anche un catalogo che daremo a tutti i nostri amici, a tutti i nostri cari collezionisti, il volto e la forza della materia, dove tra l'altro sono presenti all'interno questa grande collezione, quindi tutta pubblicata, il blocco di marmo frantumato cattura la mia energia e l'energia che in esso posseduta consacra una nuova forma e fa sì che l'opera creata trovi respiro di vita per poi mostrarsi, questo è il suo atelier, quindi ancora una volta cari amici la possibilità di vivere il grande sogno, di vivere la grande avventura dell'arte con un investimento importante, con una scelta fondamentale nell'ambito della storia e della realtà del nostro tempo. Allora, eccolo, è arrivato, adesso usate già il telefono perché lo hanno chiamato, sapendo che molti amici abbiamo dato un'anticipazione, era già impegnato, io direi che possiamo accogliere, soprattutto possiamo dare il benvenuto all'ospite di oggi, il nostro carissimo amico e scultore, Giuseppe, Giuseppe, vieni, eccoci qua, benvenuto. Buongiorno, ciao Gianluca, grazie dell'invito. Eccoci, eccoci qui, siamo appunto con l'artista in studio, come accade nelle migliori delle condizioni e soprattutto intanto grazie per la tua disponibilità e grazie anche da parte dei nostri amici perché io dico sempre che la presenza di un artista in studio valorizza e soprattutto rende anche più affascinante la possibilità di poter scegliere, di poter capire determinati messaggi che sono poi alla base della tua ricerca e del tuo lavoro. Allora, la prima domanda ovviamente che poi è quella che tutti ti fanno, tutti ti hanno già fatto anche al telefono è dove trovi l'ispirazione, cioè come nasce il tuo lavoro? Allora, rispetto alla pittura, la pittura, la scultura è meno immediata, la pittura uno va tanto di istinto, quindi dipinge, crea il disegno subito in maniera rapida, la scultura va metabolizzata, cosa significa? Che va creato un disegno, dal disegno poi pian piano si sviluppa l'idea, dall'idea si sviluppa un modellato e dal modellato poi si arriva alla creazione della scultura. Quindi i passaggi tra la creazione del disegno, la realizzazione della scultura sono tanto lunghi, quindi il messaggio va metabolizzato, va studiato, non è rapido, l'unica cosa rapida è soltanto l'inizio del lavoro. Esatto, comunque è chiaro che le tempistiche sono più lunghe ma anche i tempi, i ritmi della creazione sono molto più lunghi rispetto ovviamente alla pittura. E' proprio per questo che solitamente il rapporto tra scultura e pittura è una dieci, nel senso che la scultura quando è importante, quando si colloca in una dimensione fondamentale come la tua acquisisce fette di mercato notevolissime. Io direi che, ad esempio, avviciniamoci, partiamo dalla maestosa, la grandissima scultura di oggi, tutte le grandi opere che sono presenti in studio hanno un riferimento, hanno un titolo e soprattutto si rivolgono al concetto del volto umano. Il volto umano è alla base della mia espressione artistica, quindi io parto dal volto umano, dalla maschera per poi frantumarla, distruggerla e ricomporla ovviamente, creare una poetica. Compro dei blocchi di marmo, in questo caso sono dei marmi preziosi. Qui abbiamo un alabastro o un onice, miele, rappresenta la terra, se noi calcoliamo che un onice per riuscire a sviluppare questo genere di colore, ci vogliono stratificazioni, deve passare del tempo. Compro una lastra nata per uno scopo, la distruggo e la ricompongo dando nuova vita. Una nuova simbologia, un nuovo volto. Un nuovo volto, ecco, di fatto è un nuovo volto. Esattamente. Abbiamo due rappresentazioni. Una rappresentazione frontale, quindi che rappresenta cosa noi mostriamo alla gente. Certo. Ma è il primo impatto. È il primo impatto che è completamente diverso da cosa abbiamo noi dentro. Certo. Quindi nelle mie sculture si vedono sempre, si vedranno sempre due facce, quindi due chiavi di lettura diverse. Cioè perché c'è la parte esteriore e la parte interiore. E la parte più intima. E quindi abbiamo questa che è la parte interiore. Che è realizzata appunto con materiali nobili, come dicevi, marmi, alabastro, in questo caso miele. Con bronzo. Con innesti in bronzo. Il bronzo rappresenta l'unione di questi due materiali. Quella, una cucitura. Certo. Mentre la parte posteriore, il nostro, è rappresentata dal nostro io. La nostra conoscenza, la nostra parte più intima. Si fatti non si svela subito. Pian piano scopri la cultura e si scopre anche la parte posteriore. E questa, diciamo, è la parte iniziale. Poi, ovviamente, girando, come in questo caso, entrando nella parte più intima, conosciamo. Cosa dicevo? La scultura diventa un contenitore. Sì. La parte interna di noi stessi, la sfera, cosa rappresenta? Rappresenta il nostro io, il nostro sapere, la conoscenza. Certo. Quindi abbiamo tre di sfera. Beh, in questo caso abbiamo tre, beh, il concetto della trinità, no? Della perfezione. Come il messaggio è così profondo, così come, ovviamente, il contenuto deve rappresentare la perfezione, il massimo, no? Sei riuscito a cogliere proprio il messaggio. Uno e tre, in questo caso. Come i tuoi linguaggi, oh, bellissimo. Il concetto poi ha questa, è accogliente, no? Sembra quasi una dimora che può ospitare. Una piccola nicchia, ecco. Quindi cambia totalmente anche il valore della superficie. In questo caso rimane più liscia, più... Sì, ha una ressa completamente diversa. È una dimensione totalmente diversa, sì, 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 sì. Beh, chiaramente la scultura, se illuminata da dietro, assume un colore ancora diverso. Assolutamente. Perché il marmo, questo tipo di marmo, il colore marmo miele, viene chiamato, è un alabastro, è un omice. Ha una certa trasparenza, no? Ha una certa trasparenza. Assolutamente. E quindi un po' ecco, questo è il significato del tuo lavoro. Adesso noi, per comodità, eccoci qua. Pronto. Ma questo serve anche per capire, diciamo, le nostre amici a casa che ci seguono, un po' la complessità del tuo linguaggio che non è così, a volte sì, è immediato, ma ci si ferma sempre in superficie, laddove poi di superficiale non c'è nulla. Tutto è studiato, tutto ha un linguaggio, tutto ha una forza espressiva che ovviamente non ritroviamo in altri grandi opere, ok? E allora, cari amici, come si chiama, come si intitola? Questo si titola, questa scultura, si intitola Flusso Interiore. Ok, Flusso Interiore. E già il titolo, insomma, ci dà un po' l'idea dell'intimità. Allora, abbiamo conosciuto e stiamo conoscendo, entrando proprio nel vivo del tuo lavoro, quindi marmi, alabastri, pietre preziose che vanno a consolidare la profondità del tuo linguaggio, parte esteriore, quindi parte intima, quindi la doppia identità, come mi ha detto in apertura un po' shakespeariana, tra l'essere e il non essere, e anche linguaggi, quindi citazioni con caratteri, come vediamo in un'altra grande opera oggi presente, citazioni linguistiche, no? Che possiamo scoprire, ad esempio, qua, all'interno del linguaggio. Qui c'è tutto un percorso, eccolo qui. Intanto il dettaglio che è strepitoso, che è questo. Che è un'ape in argento. Che è un'ape in argento. Con bagno galvanico. Ok, bagno dorato galvanico, sul naso. Qui entriamo in una simbologia, in una storia, in un racconto che, devo dire francamente, forse oggi non ha uguali, no? Per la forza. Come nasce? E soprattutto il significato. Allora, il significato, parte il nome della scultura, si chiama messaggera tra i due amanti. Quindi è l'ape che invia informazioni ai due amanti. Infatti, uno dei due amanti è stupito di questo messaggio, un messaggio inaspettato che arriva, un po', si vede dal viso che è tanto sorpreso da questo messaggio. E quindi sta lì. Questo è un marmo? Questo è un marmo chiamato Imperador, proviene dalla Spagna. Ok, ok, ok. Anche lì c'è sempre la tecnica della frantumazione. Per poi ricomporre. Ricomporre tutto come un mosaico. Quindi diventa quasi un mosaico tridimensionale. E all'interno abbiamo il messaggio. Il messaggio. Qui abbiamo sempre la parte interna, il nostro io, e qui richiama un po' la calligrafia orientale. Esattamente. Il giapponese, cinese, la scrittura. Quindi si parte anche dalla tradizione orientale. Beh, insomma... C'è una contaminazione. Allora, partiamo dal presupposto che il tuo è un linguaggio fortemente anche di matrice classica, quindi arcaica, origine antichissime. Partiamo... È vero che oggi lo scopriamo con una modernità assoluta per il contenuto, per ciò che esprimi, per la poesia e la filosofia che anche le tue opere riescono a tradurre e a trasmettere. Però c'è una consacrazione ai grandi, diciamo, no? Ma si parte. Si parte studiando la storia dell'arte, si parte studiando l'arte classica. Sta alla base di tutto. Se vuoi apprendere bene il contemporaneo, devi conoscere per forza il classico. E queste sono contaminazioni arcaiche, antiche. Fatte poi da... Ecco, noi abbiamo tralasciato, ma volutamente, un dettaglio, ma anche per i nostri amici a casa, per chi non ti conoscesse, è fondamentale. Cioè, oggi Giuseppe, oltre ad essere un grande scultore contemporaneo, è anche insegnante di scultura all'Accademia di Venezia. Insegno tecniche della scultura, quindi cerco, almeno nel mio piccolo, di formare i nuovi scultori. Ecco, e quindi parliamo di uno dei punti di riferimento della scultura contemporanea. Ecco, sotto il profilo anche tecnico, insegna a Venezia tecniche scultore. Quindi capite anche, come dire, la formazione, l'estrazione e la capacità di poter arrivare a descrivere questi mondi, questi luoghi, attraverso questa tecnica. Quindi il messaggio che si scopre nella parte più intima, ruotando ovviamente nella parte posteriore è entrando nel mondo, nell'anima di questa ricerca. Messaggera tra i due amanti. Sono tutti pezzi unici, tutti pezzi unici. Qua non si trova, almeno nelle mie sculture, non ci sono dei multipli. Sono tutti pezzi unici, ma... Però Gianluca, dico, mi chiedi un'altra scultura, è impossibile da realizzare. È impossibile perché sono tutte frantumate le lastre, sono ricreate, quindi è un lavoro di una complessità immensa. E poi la bellezza, anche il concetto del gioiello, abbiamo parlato di materiali preziosi, abbiamo parlato di alabastro, miele e onice, abbiamo parlato di marmo spagnolo. Ecco, l'onice e soprattutto l'ametista. Qui entriamo in un concetto che, a mio avviso, è qualcosa da impazzire, no? Qui diventa come una... il contenitore, ma è un contenitore grosso, grotta. Tutti i singoli cristalli che illuminano tutta questa parte della scultura, come dicevo poc'anzi, anche nel resto della poetica dei miei lavori, rappresenta la nostra parte interiore. È incredibile. E poi anche... Poi abbiamo il bronzo, l'innesto con il bronzo. Che la rende ancora più affascinata. L'unione di due materiali. Esatto, qui si crea proprio la profonda e perfetta identità del tuo linguaggio, proprio tra elemento prezioso e bronzo. C'è un dettaglio che possiamo fare vedere, se infatti mi è anticipato. Ora, facciamo da qui. Voglio proprio mostrare quello di cui abbiamo parlato, come l'elemento prezioso, e soprattutto adesso lo facciamo qui, che sono un po' più contenute, ecco. Ecco, vedete. Come a seconda poi della luce, le opere in trasparenza riescano a comunicare e a brillare di luce propria, immagini straordinarie. Vedete? Sia... Forse con questa si riesce a notare di più la trasparenza... Eh, beh, sì. Ecco. ...del... ...dell'ametista, eccola qui. Là, là, vedi? Eccola lì. E quindi qui capite l'effetto, magari la mettete vicino a una finestra, vicino a una sorgente di luce, si crea anche questo gioco di trasparenza e di profondità. Sono solitamente materiali che si utilizzano per creare gioielli. Esattamente. In un'ufficieria si utilizza spesso l'ametista. Ok, allora, e qui abbiamo sia le due, ovviamente, realizzate con il bronzo e l'ametista, più contenute per dimensione, ma di pari, forza di pari importanza. Va bene? Sì. Sì, 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 sì. Non lo so, un attimo solo, adesso si è già un po' di causa al centralino, quindi riusciamo assolutamente a soddisfare tutte le richieste, poi anche qualcuno che vuole parlare, vuole conoscere al meglio il nostro artista. Allora, dicevamo quindi, dal percorso scultorio, dal grande viaggio veneziano, vieni pure, vieni pure, Giuseppe, io farei un percorso e le vedrei tutte, poi sì, ti lascio un attimo alle prime richieste telefoniche. Partendo dalla numero uno, vieni, diamo titolo e messaggio, perché allora abbiamo conosciuto l'ametista, abbiamo visto l'alabastro e il marmo e soprattutto completiamo il giro con il nostro, segui, 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 antivista, è al solito, adesso dopo dopo i nostri amici al telefono penseranno, gli richiamiamo noi. Tormalina nera? Questa è, sì, tormalina nera, come ti dicevo sono delle pietre dure, pietre preziose che vengono utilizzate in oreficeria per creare anelli, oggetti preziosi, in questo caso è una pietra che proviene dall'India, si chiama Turamali, la scultura, da qui prendo ovviamente il nome l'opera e si dice che la pietra, caro Gianluca, la pietra ha sempre influenzato l'uomo, se parliamo sia nel passato che nel presente. C'è una forte simbologia. C'è una forte simbologia, per quale motivo? Ha influenzato il comportamento umano, se prendiamo gli sciamani avevano il loro bastone con la loro pietra preziosa, il papa aveva l'anello, i combattenti nelle spade, i vari imperatori, i vari re, possedevano una pietra, quindi nelle varie scelte la pietra è influenzata, quindi si dice che questo tipo di pietra, la tormalina nera, abbia dei poteri di attrazione, quindi attrae la parte negativa, attrae i campi elettromagnetici, rispinge un po' la negatività così come... Perfetto, se è surriscaldata si dice che attira, attrae la scena, quindi ha voluto fare un gioco tra un materiale bronzo e la tormalina nera, quindi un innesto tra i due. I due elementi preziosi e poi come sempre la parte più intima che ci raccontano la forza di questo messaggio. Legata ovviamente sempre alla sfera, al contenitore, la lavorazione di questi marmi non sono marmi nel senso spessi ma sono tanto sottili. Per realizzare questo lavoro si richiede tanto tempo, ma veramente tanto tempo. Soprattutto bisogna avere anche grande, bisogna avere tempo perché insomma capite che è una sorta di puzzle dove ogni elemento viene ricomposto con poi anche tracce di bronzo. Sono tutte delle contaminazioni che cercano di legare tutte queste... Poi abbiamo l'elemento scultorio, vivo, bronzeo diciamo, che è proprio il racconto più contenuto d'oro, di quella intimità, di quel linguaggio, di quella forza, di quella presenza che caratterizza il tuo lavoro e questo è proprio l'elemento più rappresentativo, l'elemento più rappresentativo proprio tipico del tuo lavoro. Questo bronzo si intitola Non vedo. Accadono tante cose brutte nel mondo, nella società, noi vediamo, ma non le stesse stazioni a tempo facciamo finta di non vedere. Assolutamente. Quindi in questo caso il nostro vedere è la superficie specchiante di questo bronzo. Cioè il rifletto può essere un po' superficiale. Il non vedo è il levare la parte degli occhi. Però in tutto questo c'è sempre una speranza e la speranza è rappresentata a questa, che rappresenta il mondo, un mondo docente, un mondo libero dalle guerre e da tutto il male. Eh, diciamo, c'è una chiave surreale, no? Sì. Nel tuo linguaggio come giustamente deve essere, poiché il tuo linguaggio artista. Ma bisogna essere così. Gli artisti devono essere... L'arte deve consentire di sognare, altrimenti non ha più il suo valore. Rende i sogni realtà. Esattamente. La numero tre, messaggierata davanti straordinaria, abbiamo vista con l'ape che poi ha tutta la sua simbologia, portatrice di vita, la forza dell'ape e ovviamente la struttura dell'ape che conosciamo con una scultura straordinaria in marmo. Le numero quattro sono le due grandi sculture e ametista, sono i due elementi preziosi, no? Che è il racconto dello Ine e dello Ianna, soprattutto rappresentato dalla forza e dall'elemento prezioso dell'ametista, che non è facile da lavorare, no? Un nesto di bronzo e di pietra preziosa. Sono tutti materiali duri. Sì, esatto. Sono tutte delle pietre dure e la difficoltà sta nel lavorarle. E ottenere questo riscontro. La numero sei è la grande, immensa scultura in alabastro, onice, color miele. Questa è qualcosa di incredibile. Qui siamo veramente di fronte ad un capolavoro museale per contenuti, per importanza e per valore. E avviciniamo, ci avviciniamo alla numero sette, che è appunto il racconto. Questa si intitola? Silence. Silence, quindi silenzio. È meraviglioso perché, come adesso vedrete, il suo volto, la sua presenza shakespeariana, arricchita da quel linguaggio, da quelle lettere, da quel messaggio che non è casuale, perché qui c'è un messaggio davvero molto significativo. Peace, war, bang, fuoco. E poi, dove nulla vedete lasciata a caso, ci sono due lettere, una sulla fronte, una sul mento, che sono la S e la L. Abbiamo la speranza e la libertà. Rappresenta, scusami se intervengo, caro Gialuca, così magari i nostri amici che ci guardano da casa riescono a comprendere la poetica di questa mia scultura. Abbiamo detto che abbiamo un marmo chiamato Emperado, rappresenta la terra. Ovviamente, come dicevo poc'anzi, le venature, viene creata da una stratificazione che dura. Tanti anni, quindi, questo viso rappresenta la terra. La terra che cerca, la terra frantumata, la terra distrutta dalla guerra. Infatti c'è non guerra. Queste lettere cercano di ricuscire, pian piano, tutte queste fratture. Esatto, le ferite, no? Infatti, una di queste parole, che la vediamo proprio in questa parte, c'è scritto pace. Quindi, nonostante guerra, no where, la pace, sia la pace, abbiamo un messaggio di speranza e di libertà per un mondo migliore. Ovviamente la parte intima non manca perché è completa. E questa sarebbe, la parte intima, sarebbe il mondo come lo immagino io. Ecco. Quindi un mondo limpido, tondo, chiaro. Assolutamente, di grandi contenuti. Le sculture devono mandare dei messaggi. C'è l'unico ruolo. L'arte deve comunicare. Poi, attenzione, va capita, la scultura può piacere o non può piacere, ma io quando la realizzo mi sento libero di poter esprimere un messaggio o un qualcosa. Assolutamente, assolutamente. Giuseppe, però, intanto per la prima, come dire, raccolta ti ringrazio. Ci sono due amici che hanno il piacere di voler parlare con te al telefono. Procedo, poi riutilizzeremo la tua preziosa presenza qui in studio per continuare a conoscere al meglio la sua espressione, la sua forza e il suo linguaggio. Allora, cari amici, grande evento, devo dire, grande percorso, grande momento dedicato alla scultura, francamente difficile oggi poter valutare, poter conoscere, poter trovare un artista sul mercato di questa capacità, di questa bravura. Questa bravura perché? Perché ovviamente non ci sono momenti, non ci sono artisti che riescono a tradurre un messaggio così profondo, così grande, così intenso, così intimo, come avete sentito capace di fare d'Angelo. E oggi, in questo racconto magistrale, devo dire che, ecco, avrei difficoltà a scegliere una bella più dell'altra. Vi giuro, forse è un evento che non si ripeteva dai grandi... Beh, qui abbiamo parlato dei richi amarcai, quei grandi classici, della grandezza scultorea, che coinvolge i nomi più blasonati del nostro tempo e più conosciuti da Mitorai a Bottero. Ma ecco, il linguaggio di D'Angelo è un linguaggio totalmente autonomo, che nasce dalla distruzione, dalla frammentazione, dalla spaccare, quasi disintegrare lastre, blocchi di marmo interi per arrivare poi a ricomporli, per arrivare poi a riprodurli e in questo collage, in questo puzzle di elementi davvero straordinari con innesti di bronzo che non sono altro che questo volere ricucire, volere unire. E quindi ancora una volta la dualità, la dualità che non è altro che il racconto delle scelte e dei percorsi più raffinati di D'Angelo, la parte esterna, la parte esteriore e la parte più intima. Allora, andiamola a vedere tutte, cari amici, dopodiché mi aspetto un vostro intervento, mi aspetto una vostra telefonata, così come state facendo, continuate a domandare al nostro centrale, ve lo ricordo, 800-790-252, per gli amici che ci seguono dall'Italia oppure il nostro centralino Lella, come stai a vostra disposizione, per gli amici che ci seguono dalla Francia, dal Principato o dall'Europa, tutta, chiamate, chiamate pure, domandate, sarà un piacere mettervi nella condizione di investire, selezionare, quale? Era la 7, l'ultima, quella con le lettere, ma ci arriviamo? Beh, perché adesso le vediamo tutte una dopo l'altra, anche questa con l'app è spettacolare, beh, c'è un messaggio, c'è una grande profondità, questa magistrale per il concetto dell'elemento prezioso e del bronzo e soprattutto, come avete ben capito, cari amici, la tempistica, la difficoltà di arrivare a raccontare, quindi un messaggio, il senso della vita attraverso questa rappresentazione. Siamo di fronte a un gigante, cari amici, come avete ben intuito, come avete ben capito, su questo siamo tutti d'accordo, avete a disposizione la possibilità di potermi chiedere uno dei più grandi scultori viventi della storia del nostro tempo e con una scelta, con una, come dire, varietà di linguaggi davvero straordinari. Numero uno, turamali, numero due, magistrale, questo approccio, vedete, il non finito, c'è una parte, non vedo, legata al naso, alla bocca, l'espressione oro, quindi bronzo, e la parte più intima, con questa sfera, la dualità, qui cambia totalmente, vedete, sembra quasi un fiore, un petalo, sembra quasi una conchiglia, una grotta, una grotta, potremmo quasi ricollegarci al vello d'oro di Giasone e Pelia, la parte dorata, che riflette la nostra, perché a volte siamo superficiali, come ci diceva anche, ci descriveva il nostro artista, e la parte più intima, vedete, sembra quasi ancora mantenuta in un grembo materno, preservata dai mali dell'umanità. Grazie Matteo, buongiorno, buongiorno Matteo, buon lavoro, eh sì Lella, eh, assolutamente, assolutamente, e quindi, ancora una volta, la capacità di poter leggere e inserire nella vostra collezione un artista, ai gremici, che come si suol dire, ha la A maiuscola. Trovatemi oggi sul mercato uno scultore capace di poter arrivare a questa dimensione espressiva, trovatemi oggi uno scultore capace di poter manipolare la pietra dura, il marmo, l'alabastro, la tormalina o l'ametista, e realizzare da queste pietre dure un contenuto, un messaggio di questa entità. Buongiorno Barbara. E oggi avete la fortuna di poter leggere, di poter comunicare, di poter domandare. di poter scegliere, chiamandomi ora, cari amici, sono tutti pezzi unici, eh, persi questi, persi tutti. Avete perso scioccamenti grandi mitorae, avete perso scioccamenti grandi botero, avete perso scioccamenti più grandi di sempre. Oggi siete ancora nella condizione di potercela fare. chiamatevi adesso e domandate. Numero tre. Numero tre. Stupendo. Messaggera tra due amanti. Messaggera tra due amanti. E' in argento dorato. Un rubanio galvanico. Pazzesco questo riferimento a linguaggi arcaici, a linguaggi d'altri tempi, di altre epoche. E ancora una volta, vedete, esteriorità e intimità raccontate attraverso una delle sculture più belle del mondo, nel vero senso della parola. Una delle sculture più rappresentativa. Questo volto attonito, stupito, no? Di questo messaggio, vedete, gli occhi si incrociano e osservano l'ape. Simbologia del mondo, simbologia della vita. Questo significa valutare e considerare un genio. Questo significa avere a disposizione uno dei più grandi scultori della storia universale. E non dovete fare altro che chiamare e domandare. Cari amici, per se queste vi rimarrà un vuoto incolmabile. Beh, c'è anche quelle più contenute, se vuole. Questa con l'ametista, sono uno spettacolo, la vista. Ecco perché vi dico aprite gli occhi. Ecco perché vi dico aprite gli occhi. L'ametista e il bronzo. L'ametista e il bronzo. Pazzesco. Pazzesco. Straordinaria è questa, eh? E siete ancora nella condizione privilegiata di poterle scegliere. E qui ovviamente c'è quel concetto legato alla luce, no? Quella trasparenza. Ed è sempre la luce, nelle sue sculture, ha un valore fondamentale, cari amici. Così come lo aveva nella cultura antica. Perché? Perché la luce è il simbolo della vita o della forza, no, della condizione sacrale. Questi raggi luminosi sono anche una metafora di sapienza, di essenza divina. E vibrano su una superficie, anzi sulla superficie scultorea che è quella di Giuseppe D'Angelo. Ok? Accanto alla grande, l'immensa, qui cari amici per gli insaziabili, eh? Qui siete di fronte a qualcosa di clamoroso, eh? Qui siete di fronte, avete la gioia immensa di potermi domandare alabastro, onice, miele, eh? Esatto, è spaziale, è spaziale. Guardate che lavoro. Fammi vedere questi innesti, fammi vedere proprio la raffinatezza di una delle sculture fondamentali. La raffinatezza e la bellezza di uno dei capolavori più raffinati della scultura universale. Cosa ne dite? E qui siete ancora nella condizione di potercela fare, cari amici, eh? Assolutamente. Assolutamente, eh? Questa si intitola, l'abbiamo detto, è flusso interiore. Wonderful. Numero 7. La parola all'arte. Lettere. Come metafore di linguaggi, di messaggi straordinari. Pazzesco. War, speranza e libertà. Cari amici, non esitate, non indugiate un istante di fronte... E vedete, questi sono gli artisti che oggi vanno comperati. Queste sono le grandi certezze su cui puntare. Queste sono le opere che oggi lasciano un segno, una traccia indelebile nella storia dell'umanità. E questo va a discapito di tutte quelle operette più dozzinali, più commerciali, più limitante, eh? Che oggi siete nella condizione di poter leggere. Questa è la numero 7. Tutti i pezzi unici. Questo è marmo spagnolo, marmo, clamorosa, nelle sue avvenature, nella sua bellezza, nel suo messaggio pazzesco, nel suo messaggio strabiliante. E avete il vantaggio di poter... Vieni, vieni, vieni pure, vieni pure Giuseppe, vieni. Adesso, adesso, appena pronto, facciamo rivedere subito, ripercorriamo insieme queste tappe, questo lungo percorso, questo grande momento. Signore, avete a disposizione 7 tra le più grandi sculture museali mondiali, 7 opere per 7 grandi collezionisti. Chiamatevi adesso solo per indicarmi quale amate rileggere, rivedere e valutare. Fatelo vostro oggi, anche perché domani c'è tardi. Vieni, vieni pure Giuseppe, oggi che abbiamo... Vedo che è un grande fermento a centralino, un grande movimento. Allora, dobbiamo parlare anche di un dettaglio. Intanto ricordiamo per gli amici che si sono uniti da poco. Il tuo coinvolgimento in quanto professore di scultura all'Accademia di Venezia, quindi le cattedre che nella storia dell'arte sono state per la pittura dei grandi, dei grandi maestri del passato, quindi ancora una volta oggi di un grandissimo scultore contemporaneo. E poi questo messaggio, intanto è successo già pronunciato di questa dualità, la parte intima e la parte esteriore, un po' come l'essere umano, ciò che si vede di primo acchitto e poi ciò che invece è l'essere che magari in quel momento conosciamo. Quindi esteriorità, intimità. Grande linguaggio, grande profondità, ma soprattutto grande lavoro. Sì, il lavoro è un lavoro tanto lungo. Poi è collaborare con la pietra, c'è un lavoro anche faticoso di forza, perché devi spaccare queste lastre, le devi distruggere, poi devi ricreare ogni piccolo particolare. È un lavoro lungo, difatti la mia produzione io non ho, non realizzo tantissime sculture durante l'anno, appunto perché il processo evolutivo, il processo di realizzazione, è un processo tanto lungo, quindi un processo di creazione, la scultura va metabolizzata e poi pian piano ricreata. Gran parte delle opere, caro Gianluca, che vedi oggi qui presente nella tua galleria, sono tutte realizzate a livello artigianale, e qui non c'è nessun macchinario, non c'è un macchinario che mi lucida il bronzo, non c'è un macchinario che mi lucida il marmo, è tutto fatto a mano. Quindi questo è anche la dimostrazione di come oggi si possa arrivare con le mani, così come facevano i grandi artisti di un tempo. Cosa che pian piano si va perdendo, si sta proprio perdendo. Assolutamente. L'amore per il saper fare, questa è una delle cose che io trasmetto ai miei studenti, bisogna saper fare, bisogna avere amore nel fare. Nessuno ci regala nulla, ovviamente è normale, a me piace, dico pago, mi faccio realizzare la scultura, me la trovo bella, ma non è una scultura che ho sentito io. Io quando realizzo le sculture mi devo far male, se tu guardi le mie mani sono piene di tagli. Io devo lasciare un segno, cioè la scultura mi lascia un segno. Deve uscire dalle tue mani, la creazione è questa, cioè tu spacchi con il martello, io sono stato nel suo studio, poi vedrete anche quello che realizzeremo, con il martello spacca e distrugge queste lastre, quindi frammenti, schegge, cioè c'è un atto di forza incredibile, un atto creativo. Io nel frammento lascio una parte della mia energia, poi questa energia si sviluppa sotto forma di forma. Assolutamente. Ovviamente nei miei lavori c'è anche un'influenza legata al luogo, legata a Venezia, le maschere, il fatto che uno mette una maschera quindi ha una doppia identità. Identità. Su alcune sculture, per esempio, non si riesce a comprendere se ho un uomo e una donna, questa è una cosa voluta, la scultura deve essere una presenza. Indipendentemente dalla sessualità. Deve essere una presenza che comunque accompagnerà chi acquista, chi vorrà tenere un'opera in casa. Ognuno può identificare la sua, esattamente, sessualità o comunque. No, uno identifica, per me è un uomo, per me è una donna, già il fatto che comunque in un viso si mette occhi, nasi e bocca, già stiamo dando un'identità. Umana. Umana. Una traccia umana, con un messaggio però sovrumano. Certo, è lì. No, ma io ci tengo a sottolineare la caratteristica del messaggio proprio perché non sempre, cioè oggi nella superficialità, così come ci insegna la numero due del nostro tempo, come dire, si tende a non considerare la profondità del messaggio nell'arte, ma perché non ci sono più i messaggi. Quindi, no, sono andati i vini, vini pure che andiamo a vedere. Siamo andati scomparendo i messaggi. Non dimentichiamoci che la grandezza dell'arte è legata al messaggio. Cioè, gli antichi ce li insegna. Ma è sempre stato così. Infatti, il concetto è proprio di capire, intanto legame con gli antichi ne abbiamo parlato. Partiamo dall'arte greca, arrivare ai giorni nostri, che nelle opere d'arte c'è sempre stato un messaggio. Prendiamo i vari templi greci, le varie metope. Lì descrivevano qualcosa. Anche la colonna traiana descriveva un messaggio, un percorso. Quindi si realizzava l'opera per descrivere, sia descrivere qualcosa ed inviare, ovviamente, dei messaggi. Poi, per tanto tempo, le opere d'arte sono state commissionate dalla Chiesa, e quindi vediamo le classiche commissioni legate alla Chiesa, che sono tutti temi legati alla religione. Sì. Poi nel Novecento c'è stata proprio la distruzione, la separazione tra il passato e per l'apertura di un nuovo presente, un nuovo presente con l'avvento dei nuovi materiali, con la nuova ricerca. Quindi ci sono stati artisti che sono rimasti legati al passato, quindi hanno continuato sempre ad utilizzare la figura come elemento espressivo. Poi ci sono stati artisti che si sono allontanati dalla figura per una libera interpretazione dell'espressione. Lì è nata l'arte astratta, abbiamo Duchamp con l'arte provocatoria, per arrivare poi ai giorni nostri. Comunque ormai tutto è visto, rivisto e rifatto. Essere originali è completamente... Devo dire che praticamente nel tuo lavoro scopriamo una grande originalità e c'è anche una chiave, una vena surreale, C'è un po' una vena, sì, surreale, quasi una dimensione anche... Qualcosa che ci fa sognare, comunque ci rimanda ad un'altra dimensione. Questo volere anche nascondere e poi scoprire questi mondi più intimi, questo volere rimandare ad un'altra realtà, no? Quasi nello spazio, quasi una dimensione planetaria totalmente diversa dalla nostra, perfetta. Sì, sì. O richiama la perfezione. Difatti il cerchio rappresenta la perfezione. Che ognuno di noi crede di avere. Eh, sì. Se parliamo tra di noi, ah, io non ho difetti, io sono perfetto, ma alla fine si sa che non è così, però... Esatto, la perfezione. La rappresentanza è questa duplice faccia. Assolutamente. E' un messaggio che trovi in quasi tutte le mie opere. Un altro punto a favore, credo che sottolinea la tua grandezza, è proprio l'elemento prezioso. Come riesci a miscelare, come riesci a, come dire, unire il bronzo con la tormalina. Insomma, è sempre stata, è stata un po' una sfida, tutto nasce per, oltre a fatto come messaggio poetico, ma una sfida nel riuscire a utilizzare un materiale che solitamente non viene utilizzato per realizzare sculture in tormalina nera. Eh, non ci sono. Ne vedono in giro, anche perché è difficile da lavorare, va lavorato con delle lame diamantate, appunto per la durezza. Cioè, riuscire a unire le due cose, questo era il mio messaggio, no, il mio messaggio, più la mia realizzazione, quello che volevo, dove volevo in parte arrivare. Beh, è qualcosa di straordinario. Io penso che questi siano i due dettagli, i due valori che rendono unico il tuo lavoro, è straordinario al di sopra della media commerciale, perché qui entriamo nel vero valore dell'arte, e quindi sono intanto questa dimensione evocativa e la profondità intima ed esteriore, duplice, e il miscelare materiali duri e preziosi, bronzo e marmo, bronzo e tormalina, bronzo e ametista, cosa che oggi possiamo dire non fa nessuno. Quindi diventa un gioiello nel messaggio, il grande valore della tua arte, e anche nella costruzione. Un po' come accadeva all'epoca per coloro che riuscivano a lavorare il marmo pario, no? Il marmo diventava il valore, no? Il valore del lavoro era il marmo, perché i grandi scultori che riuscivano a lavorare, non se nei secoli passati il marmo era come se lavorassero qualcosa di prezioso, perché il marmo era ritenuto davvero una piedra, era ritenuto qualcosa di incredibile, perché duro, difficile da lavorare, e poi venivano fuori queste sculture, queste rappresentazioni incredibili. Quindi un po' come in antichità accadeva per i giganti del passato, oggi devo dirti grazie perché ci fai rivivere la stessa dimensione, così come accadeva per Michelangelo, per Ronaldo, anche per i grandi, no? Coloro che sono stati nei secoli passati in grado di scolpire il marmo e tirare fuori, estrapolare qualcosa di più altamente significativo, tu oggi fai la stessa cosa unendo anche l'elemento prezioso. Quindi io credo che possiamo dire di aver aggiunto un valore ulteriore a quello che nei secoli passati i grandi scultori hanno realizzato. Poi sono sculture che continuano a vivere, il materiale, per esempio il bronzo è un materiale vivo? Sì. Oggi lo troviamo questo colore, passerà del tempo, pian piano si comincerà ad ossidare, assume un altro colore, quindi sono delle sculture che hanno una vita. Assolutamente, e sono straordinari. Grazie, grazie Giuseppe, ti lascio perché il nostro centralino si sta scaldando. Intanto lo dico ai nostri amici, allora cari amici cosa ne pensate? Chiamatemi il nostro numero verde, chiamate il nostro centralino, scrivete alla nostra mail, scrivete al nostro indirizzo per poter considerare, valutare e leggere. Un attimo, sì, ci sono anche i nostri ospiti appena arrivati, entrate, accomodatevi. Indicatemi quale preferite leggere, devo rivedere la 7 per un carissimo amico, vieni. Dario, Dario come stai? Esattamente, tutto con amore e sentimento, emozionanti, ma infatti lo vediamo, lo stiamo considerando insieme. Emozionanti. Eccola, la numero 7 per il nostro caro amico, nel frattempo prenotatevi per te, va bellissima, poi parliamo anche di questa, appena hai finito il telefono, la fuori catalogo che è stupenda. Eccola, eccola, questa è una delle opportunità fondamentali che oggi avete il privilegio di leggere. Il valore della parola, vedete queste contaminazioni linguistiche, culturali, scultore, l'intimità di un messaggio che nessun altro ad oggi è stato capace di esprimere. Cari amici, a questo livello nessun altro gigante, nessun altro genio a questo livello, se non il grande danger. E poi, no war, peace, bang, S e L, libertà e speranza. Speranza, clamoro, no perderla è un reato, significa non aver capito nulla della grandezza artistica di ciò che solo i più importanti scultori del mondo sono stati in grado di esprimere. E' come lui nessun altro, cari amici. Ecco perché vi dico fatevi largo. Fatevi largo. Grazie, grazie, grazie Dario. Cosa ne dite? Cari amici, non esitate un istante. Queste sono le sculture che cambiano il corso e il valore della vostra collezione. Queste sono le sculture fondamentali. Salutiamo anche Gabriele. Come stai Johnny? Oggi qui avete i più grandi scultori al mondo. Abbiamo visto come dal bronzo e dalle forme di Tassica arriviamo al linguaggio più essenziale di Johnny David Parra e alla forza, alla capacità e alla dualità e all'alimento prezioso di Giuseppe. D'Angelo. Ecco perché vi dico non esitate. Ecco perché vi dico fatevi largo. Avete sette opere tra le più clamorose. Sette tra le più grandi sculture mondiali. Ad una condizione economica, cari amici, che lascio a voi giudicare. Perché oggi non dovreste nemmeno chiamarmi come state facevamo, quanto costa, quanto così, adesso vediamoci. No, dovreste chiamarmi per dire la voglio, 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 punto, punto. Non eravate alla ricerca di un fuoriclasse, non eravate alla ricerca di un grandissimo artista contemporaneo in cui i valori siano già riconosciuti nel mondo, non eravate alla ricerca anche, anche di quell'investimento. Perché se c'è contenuto, cari amici, c'è il ritorno. E quindi i contenuti ne avete da vendere, per quanto concerne il valore della materia prima, l'espressione del suo linguaggio, la grandezza del mercato che già ha acquisito. Cari amici, la cattedra Venezia, andiamo a ritroso nel tempo, l'hanno avuta solo i grandi, grandi, lui rientra tra questi grandi, non dimenticatevelo, perché la storia si ripete, ma anche a volte gli errori, gli errori però vi devono servire come esperienze per migliorare. E allora non dovete fare altro che richiamami adesso e domandare, quale amate rileggere, le due più contenute, questo è una metterista, subito. Non eravate alla ricerca del meglio, non cercavate uno scultore, un fuoriclasse, non cercavate qualcosa al di sopra della media, e non puoi freggiarti del termine collezionista e non avere a disposizione una scultura di questa entità. Eccole le più contenute. Le più sono straordinarie. Ametista e bronzo. Cioè ma, vi rendete conto, cari amici, come riesce ad esprimere da materia dura, da una pietra o da un gioiello? Riesce a dare volto. Riesce a dare volto. Straordinario. No, incopio, sì, anche singolarmente, ma che ci sono belle incopie, scusatemi, adesso. Guardate, le mettete così come ve le sto proponendo, magari c'è un controluce dettato da una finestra vicino a un ingresso, un atrio, ma è uno spettacolo. Non è forse lo spettacolo che stavate cercando, questo dialogo, questa unione, questa rappresentazione di due mondi, di due volti, cielo e terra, anima e spirito, corpo e materia, giorno e notte, yin e yang, gli opposti, l'unione, la perfezione, un atto d'amore puro che si concentra solo nelle grandi sculture di D'Angelo. Elemento prezioso e bronzo, tra le sculture più rappresentative, tra gli sculture più rappresentativi del mondo. Cari amici, non esitate, cari amici, non esitate perché siete di fronte ad uno dei linguaggi, ad uno dei percorsi, ad uno dei momenti più grandi. Pazzesco. Pazzesco. Vedete come cambia? Con la luce si accende, come la passione, come il fuoco, come la vita. E questa è la grande forza, è la stessa, è solo la questione della luce. Pensate durante il giorno, così come cambia il sole, la luce nella vostra abitazione, cambia la percezione di questa scultura. Guarda, è una fiamma che arde, arde d'amore puro. Pazzesca. Pazzesca davvero, vedete? fantastico, fantastico, semplicemente d'angelo, semplicemente d'angelo. Allora, se ne vanno, se ne vanno, occhio, occhio cari amici, che sto fuori classe. A breve queste sono le sculture che vedrete nelle location più esclusive del mondo. E una volta qui, non si compra più, lo sapete. Io vi metto sempre nella condizione di leggere, per tempo, cari amici, dopo sono bravi tutti a chiedervi 150-200 mila euro. Beh, la proiezione è evidente. Ma perché? Perché noi già scremiamo, 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 per voi, e vi portiamo solo i numeri uno, al di sopra della media. Poi volete continuare con la solita zuppa riscaldata? Liberi di scegliere, però poi non lamentate. Bisogna avere la capacità di innovare, di selezionare, di valutare il meglio. E questa è la dimostrazione. Cioè, ma mi dite chi è in grado oggi di lavorare un elemento prezioso come l'alabastro color miele? Cioè, per arrivare a questa soluzione ha dovuto spaccare una lastra di due metri. frantumare una lastra di due metri, per poi ricomporla, per poi ricreare questo grande viaggio. E questa ne è la dimostrazione, il risultato più grande. Avete la già immensa di chiedermi le sculture monumentali che domani mattina vi chiederanno i musei. non esitare, non esitare un istante perché l'hai già persa. Ma avete visto che lavoro? Guardate cosa c'è qui. La vita. Uno e trino. La grande simbologia. Eccola qui. Questo vi fa capire cosa vuol dire lavorare con criterio, con intelligenza. Non perdere tempo a imbrattare una tela o, come dire, segnare un pezzo di bronzo. Questa è la differenza tra uno scultore e un dilettante. La profondità, il linguaggio, la dualità, i materiali preziosi. Ciò che non trovi girando l'angolo. Ciò che non trovi cambiando canale. Ciò che non trovi nelle gallerie, ma è nella storia. È dentro ognuno di noi. Nell'epidermide. Da far tremare i polsi. Questa è la grandezza di Dancio. Guardale, guardale, queste sfere. Questi mondi. È sublime. È sublime. È strepitoso. Ed è la rappresentazione assoluta. Sì, 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 poi c'è la ruota, la gira, la muovi. Sono solo quelle 250.000 tonnellate, ma sono andate... È molto semplice, semplicissima. Si sposta con facilità e poi c'è la ruota. Sì. Passami, passami, facciamo vedere. Sì. Aspetta. Eh? Facciamo vedere il controluce. La percezione del divino. Parte che ne metti al centralino. Quale tra questi grandi capolavori e materileggere? Quale tra queste grandi opportunità? Anche questa, no? Il concetto della luce. Eccola, ecco. Vive. È la spiritualità. La vita. Che si muove. Che cammina. Che illumina queste labbra. Che dà voce. Voce. Provate anche in un... Sì, da esterno, va benissimo. Col sole che la compenetra. Mamma mia. Mamma mia. Che lavoro. Che lavoro incredibile. Da impazzire. L'anima si accende. Lo sguardo prende vita. E cambia la percezione. Del mondo. Eh, cosa ne dite? E a questo punto tocca a voi. A questo punto tocca a voi parlare. E a questo punto il compito è vostro. Quale, cari amici? Quale grande capolavoro di D'Angelo preferite rileggere? Siete di fronte ad un fuoriclasse. Siete di fronte ad uno dei più grandi geni della storia, della scultura contemporanea. Amici, perderlo è un reato. Perderlo significa non voler accettare la grandezza di una realtà che rimpiangerete. Sì, 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 ci sono inserimenti in bronzo. Quale parola? L'ape in argento dorato è fantastico. Fantastico. Eh sì. Occhio, eh, occhio. Perché qui davvero siete di fronte a qualcosa di clamoroso. Fantastico. Messaggera tra i due. Amanti. Incredibile. 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 D'Angelo. Sì, eh. Vieni, vieni Giuseppe. Hai fini? Eh? Sì? Aspetta. È l'assistanza? Sì. Oh, sorry. Fantastico. Fantastico. Quale? Allora, credo bene che siete del te. Bene, Giuseppe, d'altronde, ne abbiamo parlato prima, i nostri grandi amici, poi i nostri amici che ci seguono sui social. Devo dire, è un successo pronunciato, ma soprattutto, non peraltro, insomma, vista la grandezza del tuo lavoro, eh. Incredibile. Ma soprattutto... Ti ringrazio, sono contento che apprezzi la... Beh, altrimenti non saresti qui, eh. Noi, voglio dire, sai come lavoriamo, ci conosciamo da tanto tempo e, ovviamente, quando l'arte raggiunge questi livelli, allora possiamo parlare d'arte. Diversamente, ahimè, purtroppo il mercato poi vive di tanti limiti, ma non è di questo che oggi parliamo, parliamo della tua grandezza. Il mondo, il valore della vita, abbiamo parlato di surrealismo, di grande simbologia, di grande messaggio, un grande messaggio, la tua opera. Bellissimo. L'ape, l'ape rappresenta la fecondità, la procreazione. In questo caso, l'ape messaggera. Quindi, questo elemento diventa un simbolo, messaggera tra i due amanti, due amanti che hanno bisogno di comunicare, non più con i cellulari o con la tecnologia moderna, però attraverso l'ape. L'ape non parla, però in questo caso trasmette e comunica qualcosa. È in argento, galvanico, con un bagno dorato galvanico. Fantastico. E dietro, il messaggio d'amore, con la calligrafia cinese. Quindi anche questa è interpretabile, potete interpretarla come volete. Quindi, in parte ho preso, ho attinto, ho preso ispirazione dai miei viaggi fatti in Cina, dove durante l'anno, tre, quattro volte l'anno, vado a trasmettere la mia arte, il mio sapere, a dei giovani studenti cinesi. Devo dire, molto bravi, con tanta voglia di apprendere. Beh, c'è una formazione in Cina che è molto... È rigida, è tanto rigida. Conosco, conosco le dinamiche cinesi, la formazione è piuttosto complessa, insomma. La Cina sono... cioè, poi o sei dentro certi parametri o sei fuori. O sei fuori. Gran parte degli artisti cinesi, dico famosi, è perché hanno studiato all'estero. Assolutamente. E poi studiano loro partono dei classici. Sì. Cosa che si sta perdendo, ahimè, nelle varie accademie italiane. Però nonostante tutto qualcosa... Rimane. A Venezia rimane. Come diceva il cartatore, qualcosa rimane tra le pagine chiare. Si parte dall'arte classica, si parte dal figurativo e poi pian piano ognuno interpreta come vuole la forma. Straordinario, eh. Devo dire che una bella più dell'altra. E poi la cosa che trovo fantastica è che ogni opera ha il suo messaggio, ha il suo contenuto, ha la sua espressività. Tutte hanno una loro economia e tutte hanno qualcosa da raccontare. Questo lo trovo davvero incredibile. Rispetto poi a, come dire, la normalità. Come abbiamo già detto in apertura, siamo al di fuori, al di sopra della media. Abbiamo, eccolo qua. Abbiamo oltre 250 persone che ci stanno seguendo anche sui social. Salutiamo gli amici che ci seguono sui social. Qualche caro amico anche dalla Sicilia. Vedi, ti ho messo anche... Bene, eh. Guarda, vedi, vedi, ti sei anche tu vestito a blues blu. Hai visto? Adesso lo faremo in due perché noi ogni tanto... Ecco, quello è l'angolo da blues, eh. Sono in bianco e nero là, ha colori di qua. Ci vuole una chitarrina o qualche... Diamo l'aspetto artistico sui social e questo, insomma, è quello che conta, eh. Eccoci qua, siamo di nuovo in onda. Allora, grazie Giuseppe. A breve sarò di nuovo da te. Intanto il nostro centralino è attento nel potere rivolgere l'attenzione dei nostri amici e le domande. Poi, dottoronde, come dicevamo in apertura, diventa sempre bello, interessante, affascinante avere l'artista in studio perché, eh, una dedica, una richiesta, un, come dire, un approfondimento è sempre, eh, grazie, 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 grazie. Salutiamo gli amici che ci seguono da Torino, assolutamente, con grande piacere. Sì, 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 quale? Ah, sì, 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 hai ragione, poi la vediamo. Adesso te li faccio rivedere tu. Però per gli amici che ci sono uniti a noi da poco, riniziamo, ricominciamo, ricominciamo. Barbara, buongiorno. Da numero uno, ricominciamo da numero uno, dalla grande Turamali. Turamali, fantastica. Fantastica, questa Turamali, numero uno. Ah, ve le faccio rivedere, credo quasi per l'ultima volta, una dopo l'altra, chiamatemi al centralino solo per indicarmi quale amate, rivedere, valutare. Bloccate oggi le grandi certezze che hanno solo un nome, D'Angelo. Fantastico. Tormalina e bronzo. Tormalina e bronzo. Sublime. Numero uno. Numero due. Non vedo. Oro. Questo bronzo dorato. Incredibile. Questo volto che trasmette l'identità dell'uomo tra l'essere e il non essere, tra il vedo e il non vedo. E sei nella condizione di valutare, e sei tra i privilegiati nel potere leggere, nel potere selezionare, nel potere investire oggi su un genio. Questo è il concetto. E ognuno di noi è nascosto, è coperto, è coinvolto da queste immagini. Capita, penso quotidianamente, in ogni momento della vita, di vedere, di osservare, ma non vedere. di andare oltre, di essere quindi superficiali, per mille motivi, questa non è una colpa, non siamo qui per vedere i motivi, ma per capire come la vita a volte ci metta nelle condizioni di bypassare certi argomenti, momenti o avvenimenti. numero tre, il splendido, straordinario, l'ape, la messaggera, ciao Daniele come stai? tra i due amanti, la griglia l'hai preparata Daniele oggi? Vedo già, vedo già, è un'atmosfera, esattamente, straordinaria, fantastico. Questa merita tutta la vostra clamorosa attenzione. I due gioielli, in ametista e bronzo, questo dialogo, questa unione, questo messaggio, questa magia, questa bellezza, senza fine, senza fine. come diceva l'amico Gino, che salutiamo, che solo la forza di D'Angelo è capace di trasmettere. Porta Gremici al centralino! Certo! Mamma mia, incredibile. Sì, 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 ma sono singola. Il volto umano, una rappresentazione, sembrano i grandi idoli, no? Abbiamo parlato delle maschere di un tempo, delle maschere degli indiani d'America, c'è una simbologia, cari amici, incredibile. C'è una forza, no? La saggezza di trasmettere con il volto il valore di un elemento prezioso, come l'ametista, che è una simbologia incredibile, come la tormalina, come il bronzo. Deve prendere anche questa. Massimo, devi prendere anche queste. Eh, caro mio, te l'ho detto. E poi, l'immenso capolavoro. L'immenso capolavoro che, a mio avviso, è da andare giù di testa. Cosa, cari amici, è oggi la scultura della vita. Fate l'argo, fate l'espazio, buttate giù una parete, spostate un divano, fate quello che volete, ma fate qualcosa adesso. Perché esitare su questo capolavoro magistrale è un reato. Esitare su uno dei più grandi capolavori della scultura contemporanea. Cari amici, ma ve lo capite o no? Ve lo volete mettere in testa che questo è il più grande padre della scultura contemporanea? Cioè, oggi avete a disposizione uno dei più alti punti di riferimento della scultura mondiale. Ronald, a what are you? E sei nella condizione di poterlo fare tu. Con questi inserimenti bronzii, questo elemento che cuce, che unisce, che mette in comunicazione la forza, la bellezza del bronzo, di questa pietra a fascino, che poi è alabastro, questa pietra che ha un fascino e che ha una bellezza senza precedenti, con il linguaggio più profondo di Giuseppe d'Angelo. solo per numeri uno, solo per numeri uno. Cari amici, io tra qualche istante vi devo salutare, ma esitare dinanzi ad un capolavoro del genere è una follia. La mettete in esterno, in giardino, sulla terrazza, dove volete. Resta la scelta fondamentale. E a questo livello nessun altro? A questo livello nessun altro. Ecco perché vi dico non esitate. Siete nella condizione di poter scegliere, investire, considerare ciò che avete sempre voluto. E non è forse questo il momento? Allora, quando se non ora, come se non a tali condizioni, quale se non questa? Ok? E poi, la meravigliosa numero sette. Lettere d'amore. Missaggio d'amore straordinario. Silence. Ascolta. Il silenzio è la tua voce. Fantastico. Parole e voci. Tutto in bronzo le lettere. E questo è marmo. Ok? Di una raffinatezza epocale. E di una raffinatezza epocale. Avete a disposizione una delle più grandi sculture della storia universale. Chiamatemi al centralino e domandate, cari amici. Perché a questo livello nessun altro. A questo livello nessun altro. E sei tra i privilegiati, oggi tra i fortunati, nell'esserci. A poter scegliere. Avete ancora pochi attimi per poter leggere e considerare e valutare, cari amici, questo? Grande momento. Chiamatemi al centralino, chiamate al nostro numero verde, scrivete la nostra mail, info. Scrivete al nostro numero Whatsapp, chiamate il nostro centralino, chiamate il nostro numero verde per gli amici che ci seguono dall'Italia. 800-790-252, ripeto, 800-790-252 anche per chi chiama da fuori Roma. E sarà un piacere mettere a disposizione il più grande, il più grande scultore della storia dell'umanità. Ok? Sì, sono isole comprese. Ed Angelo, abbiamo anche il catalogo con le pubblicazioni. Eccolo qua. Sono tutte pubblicate. Qua. Vedete? Numero 3. Numero 1. Numero 3. Questo è un grande capolavoro, numero 1. La numero 1. Eccola qui. Queste sono le più contenute. Temperanza e umanità. Saggezza interiore. Non vedo la numero 2. Sospiri e respiri. E poi messaggera tra i due amanti. E poi coesione. Ancora una volta. Grandi capolavori di un genere. Ve lo do, ve lo do. Giovanni, come stai? Yes. Only in Italian language now. Later. Later in English and French. Later, later. Ok? Allora, ultimo spazio al nostro grande scultore presente in studio. Dai, un ultimo spazio per considerare, leggere, valutare i grandi capolavori. Dopodiché ovviamente lascerò a voi, Antonio benvenuto, la possibilità di scegliere in tutta tranquillità. Se volete poi vi posso dare qualche indicazione, qualche suggerimento. So che un amico era in dubbio tra la 1 e la 7, tutte e due, è ovvio. La domanda, la risposta, domanda, risposta. Grazie, Giovanni, buongiorno. La domanda, risposta. E per il grande capolavoro. Se non vi lo portiamo noi, non preoccupate. Fate dire solo dove. Il piano, il piano è importante. Se c'è ascensore, se non... Sì, non bisogna saperlo. Ma leggera. Sì, non ma è leggera. Bene. Vieni, vieni Giuseppe. Vieni, vieni pure con noi. Mi siedo. Ti siedi? Sì, sì, così si vede la... La grandezza, la grandezza di un capolavoro straordinario. Poi qui tu hai realizzato tutto. Hai realizzato la base. Tutto, dalla base in ferro a realizzare la base in ottone, lucidata, portata a specchio. Lo specchio perché deve riflettere. C'è questo concetto di riflesso. Della riflessione. Riflessione come parte intima, come dialogo. Bellissimo. Molto bene. Allora, facciamo un piccolo riepilogo. L'ultimo racconto sullo numero 7, che è complessa e meravigliosa proprio per queste lettere, per questo dialogo, per questo messaggio, per la forza, no? Di questo... Del linguaggio. Sì. Guerra, no alla guerra, si cerca la pace, quindi il sì della pace. Una speranza, ma una libertà. Una libertà che oggi, caro Gianluca, purtroppo non c'è. Ah, assolutamente. Prova, sono piccoli messaggi, so che magari sarà una goccia in mezzo al mare, ma magari questa piccola scultura potrebbe smuovere qualche cosa. Ma è già qualcosa. È già qualcosa. Io dico questo, comunico la mia, tra virgolette, angoscia. Certo. Nel vedere determinate cose, quindi cerco di trasmetterle attraverso l'arte, il tuo percorso, il tuo messaggio, il tuo linguaggio. Attraverso la scultura. Cioè, uno scrittore scrive, non so, ognuno... il tuo mezzo è la scultura, quindi è chiaro che diventa l'elemento per dialogare con l'umanità. E francamente ci riesci molto bene, i nostri amici se ne stanno accorgendo, e questo credo che oggi sia... C'è il mio ultimo lavoro, quindi qua, se vedi, rispetto alle altre sculture... C'è stato un cambiamento. Sì, c'è stato l'intervento della lettera. In questo caso sentivo proprio la necessità di dire qualcosa, però in questo caso queste lettere, questo mio messaggio, cerca di... Le lettere sono... fanno da cucitura. Quindi devo cercare di cuscire questo mondo di distrutto. Questi farmenti, queste ferite, queste lacerazioni, questi vuoti. Ma che sono vuoti, sì, e la scultura poi lavora tanto sul vuoto e il pieno. E il vuoto e il pieno poi ti crea la luce. Sì, sì, sì. Poi dipende dove si colloca, assumerà un colore diverso, la luce sembrerà diversa. Oh, è fantastico. Cambierà, come il resto, anche le sculture in bronzo, no? Avevamo visto la... la non vedo. Sono due. Riflette, riflette la luce circostante, quindi magari dipende dove viene collocata... Assolutamente, cambia anche la luminosità. Cambia colore, per questo, quando io dico le sculture... Le sculture vanno collocate. Vanno collocate in un determinato posto e prendono vita. Poi, esatto, hanno la loro identità una volta... L'identità la prendono e l'assumono all'interno di un luogo. La scultura va vissuta, ma va vissuta con gli occhi. Assolutamente. C'è... io mi auguro che magari domani cambierà. C'è la mentalità di avere un quadro in casa, perché? Perché ci sono delle pareti. Ma... Ma la scultura... O le tende di un colore. O le tende di un colore. La scultura è fatta per pochi. È autonoma, sì, sì. Si può chiamare gli appassionati. Bisogna avere... Molto più selettiva. Molto più selettiva. Ma io dico sempre che è il lavoro che seleziona il cliente, il collezionista. Non è mai il contrario. Noi siamo noi che scegliamo, ma è il prodotto che ti porta ad essere scelto. Guarda, hai detto una cosa che in parte condivido. Il lavoro che ti scegli, in questo caso sai cosa mi ha scelto? Sono le pietre. Io vado nelle varie cave, vado nei vari marmisti, passeggio lungo, perché quando entro io voglio stare da solo. Entro... già loro lo sanno. E la pietra ti chiama. Ed è la pietra che mi chiama. Io ho già un progetto in mente, ho già fatto il disegno della scultura, vado all'interno di una cava ed è il materiale. Per questo ti dico che da un lato la pietra ha dei poteri attrattivi nei miei confronti e io scelgo quella, quel tipo di marmo, quel tipo di onice, quel tipo di pietra, mi serve per realizzare la scultura. Ti hai già chiamato. Tu dici, sì, ma è da sola, poi si crea da sola. Sì, sì. E' difficile da riuscire a capire. No, 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 ma è chiaro, è molto chiaro. È veramente complicato da un lato riuscire a comprendere cosa mi porta a realizzare questo genere di lavori. A volte mi prendono anche per pazzo, no? Stavo da solo in una cava, così, fermo nel nulla e cercare di capire qual è, quale energia, poi l'energia della pietra più la mia energia, l'impeto nella distruzione, fa creare questi lavori. Per il momento il mio percorso è questo, perché vengo chiamato, poi magari fra qualche anno vedremo lavori con un'entità diversa, poi ogni periodo. Si vedrà, è stato questo momento già di grande profondità e di grande, come dire, impatto. Allora, Giuseppe, noi siamo quasi arrivati al termine. Intanto volevo ringraziarti anche a nome di tutti i nostri amici che ci seguono, che ricordo anche per gli amici che ci stanno chiamando, che rimane a disposizione anche subito dopo la chiusura per qualche istante, magari per qualche ultimo suggerimento o valutazione insieme a noi. Sicuramente ti organizzeremo e ti riavremo presto in studio per le news, c'è un mercato americano che so che ti sta aspettando per un grande evento, non diciamo nulla, lasceremo scoprire e informeremo i nostri amici al momento opportuno, che è diventato, grazie. No, ringrazio te, ringrazio i signori che sono venuti apposta per la trasmissione, che hanno mi chiesto informazioni sulla scultura. Abbiamo un po' di movimento insieme a me e poi qualunque altre cose, insomma, siamo qui. Adesso ti lascio il centralino che sei gettonatissimo quest'oggi, giusto? Grazie. E allora, ragazzi, grazie ancora al nostro grande scultore, un'altra delle nostre realtà che come sempre proponiamo al meglio e che siete nella condizione, Yassin, buongiorno, di potere leggere e valutare. Allora, cari amici, ancora qualche standa, ancora qualche minuto prima dei saluti, giusto? Esattamente. Chiamatemi al numero verde per chi chiama dall'Italia 800790252, arriviamo subito su un istante. Se avete intervisto uno di questi grandi capolavori, bloccatelo adesso, bloccatelo adesso, bloccatelo adesso. Salutiamo accanto al grandissimo capolavoro. Grazie, come sempre, per averci scelto e preferito in questa grande trasmissione dedicata all'immensità della scultura con Giuseppe D'Angelo, una delle nostre grandi punte di diamanti nel mondo della scultura. Continuate a domandare, continuate a chiedere, per gli amici che mi hanno contattato li richiamerò a breve per scegliere insieme questi capolavori. Continuate a domandare, non esitate un istante dinanzi ad uno dei più grandi scultori sulla faccia della terra. Oggi, per profondità, per contenuti, per linguaggio e per materia prima, materia prima preziosa, importante come il marmo, come il bronzo, come la tormalina, quindi come proprio gioielli da mettere attorno a voi e con i quali circondarvi. Va bene? Grazie, come sempre, un buon proseguimento, una buona vita a tutti e un arrivederci. Alla prossima.